Una storica prima volta, una soddisfazione vedere il Parasporce Ghipini con tanti appassionati di basca e femminile e vuoi mettere e vincere, anche soffrendo, anzi, quando devi proprio mettercela tutta diventa ancora più bello e allora la Visondra, il debutto assoluto in Serie B, piega a 64-61 un per nulla arrendevole Val Madrera. Siamo contentissime, eravamo un po' titubanti, però dai, sicuramente diciamo che ci rassicura il fatto di essere riusciti a vincere la prima ma soprattutto grazie anche al pubblico che era numerosissimo e ci ha caricato molto. Partita equilibrata, 32 pare l'intervallo lungo, a Visca lungo 54-49 al terzo tempo, un vantaggio che è stato anche di 10 punti ma la sfida si decide all'ultimo giro di lancette, dove la squadra di casa non sbaglia più. Abbiamo sbagliato tanto, però abbiamo visto che facendo le cose con calma, giocando come sappiamo giocare siamo riusciti sempre ad andare a canestro senza difficoltà. Ci sono stati dei momenti in cui siamo andate un po' in casino, sarà la tensione della prima partita però sono sicura che sapremo rifarci nel migliore dei modi. Avis comunale Sondro che ha confermato la Rosa che ha compiuto un'impresa storica la passata stagione con la promozione in Serie B. Sarà un campionato con coefficiente di difficoltà altissimo per le sondresi ma coach Cristian Puccio è in mano una squadra di primo ordine anche se magari dal punto di vista della prestanza fisica su alcuni campi dovrà pagare Dazio ma la prima partita ha dimostrato che l'Avis Sondro ha tutto per difendere la categoria. Sì dai, sì sì.